Fervono i preparativi per il concerto di Massimo Ragneri in programma a Teramo il prossimo 26 luglio in Piazza Martiri. Musica per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie, è l'evento tanto atteso organizzato dall'Associazione Culturale Improvvisi, presieduta dal musicista teramano Paolo Di Sabatino, a cui è stata affidata la direzione artistica. Siamo in fase di allestimento, abbiamo anche organizzato una lotteria e anche lì quasi la metà del ricavato della lotteria andrà all'AIL. Quindi è un avvenimento di grande rilievo, di grande importanza per la nostra città e mi auguro di vedere Piazza Martiri piena. Il grande concerto di metà estate richiamerà l'attenzione di migliaia di persone, l'organizzazione dovrà essere impeccabile. La prevendita è partita da qualche giorno e dall'andamento, il boom è atteso comunque per le prossime settimane, Piazza Martiri sarà gremita. Per l'AIL un'occasione per ottenere fondi importanti per la ricerca contro le leucemie. Questo evento si inquadra perfettamente nell'attività di raccolta fondi che noi facciamo. Ringrazio gli organizzatori, noi non abbiamo mai avuto né mai li vogliamo contributi pubblici, per cui la nostra raccolta si fa in questo modo, con altri modi tradizionali tipo vendita stelle di Natale, uova di Pasqua, eccetera, e poi donazioni spontanee oppure manifestazioni come questo. Teramo sarà l'unica tappa abruzzese dell'artista poliedrico napoletano. Massimo Ranieri verrà a Teramo in esclusiva praticamente regionale, visto appunto che una parte del ricavato dell'incasso andrà all'AIL, faccio insomma un appello che poi non ci sarebbe neanche bisogno, vista anche l'importanza dell'artista, perché secondo me Massimo Ranieri è uno di quegli artisti italiani conosciuti e amati dal grande pubblico di tutti i ceti sociali di tutte le età. E quindi mi auguro appunto, come ho detto prima, di assistere ad un grande evento e di vedere la nostra piazza martiri piena. Infine il presidente dell'AIL di Teramo ha annunciato che la sede di via Cerulli dell'associazione sarà intitolata Graziano Petrini, ex dirigente del San Nicolò e socioattivo dell'AIL Teramana, scomparso di recente. Questa sede per noi è molto importante, perché è una sede che ha voluto fortemente Graziano Petrini, al quale siamo immensamente gradi e non lo dimenticheremo. Sarà intestata prossimamente a lui. Grazie a tutti.